YouTube, LLC è una piattaforma web, fondata il 14 febbraio 2005, che consente la condivisione e visualizzazione in rete di contenuti multimediali, video sharing. Gli utenti possono anche votare, aggiungere ai preferiti, segnalare e commentare i video. Sul sito è possibile vedere videoclip, trailer, cortometraggi, notizie, live streaming, slideshow e altri contenuti come video blog, brevi video originali, video didattici e altro ancora. Nell'ottobre 2006 è stato acquistato dall'azienda statunitense Google per circa 1,65 miliardi di dollari. Secondo Alexa, è il secondo sito web più visitato al mondo, alle spalle solamente di Google. L'azienda ha sede a San Bruno, in California, e utilizza i tag standard di HTML5 nelle nuove versioni dei browser Adobe Flash Video in quelle più vecchie, per visualizzare una vasta gamma di video sia da singoli utenti, sia da Società dei Media, CBS, BBC, Rai, Vivo, e altre organizzazioni, che offrono parte del loro materiale tramite il sito come sottoscritto nel programma di partenariato di YouTube. Il partenariato, inoltre, permette agli utenti con un margine di utenza elevato di ottenere una ricompensa in denaro in cambio della sponsorizzazione. YouTube guadagna entrate pubblicitarie da Google AdSense, un programma che indirizza gli annunci in base al contenuto del sito e al pubblico. La maggior parte dei suoi video sono liberi per visualizzazione, ma ci sono eccezioni, inclusi i canali premium basati su abbonamento, noleggio film, nonché YouTube Premium, un servizio in abbonamento che offre accesso senza pubblicità al sito web e accesso a contenuti esclusivi realizzati in partnership con utenti esistenti. Storia. YouTube è stato fondato il 14 febbraio 2005 da Chad Hurley, amministratore delegato, Jod Karim e Steve Chen, direttore tecnico, tre ragazzi che in passato avevano lavorato per PayPal. Il primo video caricato su YouTube è stato Mehet Desuio Allodo, pubblicato da Jod Karim, alle 20 e 27 del 23 aprile 2005. Il filmato ha una durata di 19 secondi ed è stato girato di fronte alla gabbia degli elefanti dello zoo di San Diego, in California. Karim, il cui username è Jod, è stato anche il primo utente a registrarsi sul sito. YouTube è il sito web che ha presentato il maggior tasso di crescita nella sua storia decennale. Nel giugno del 2006 l'azienda ha comunicato che quotidianamente venivano visualizzati circa 100 milioni di video, con 65.000 nuovi filmati aggiunti ogni 24 ore. Google ha dichiarato il 23 giugno 2017 che la piattaforma ha raggiunto il traguardo di un miliardo e mezzo di visitatori al mese. L'incremento di popolarità che YouTube ha avuto dalla sua fondazione gli ha permesso di diventare il secondo sito web più visitato al mondo, alle spalle di Google. Nell'agosto del 2006 Sony ha acquisito il sito concorrente Grouper per 65 milioni di dollari. All'epoca questo evento aveva lasciato presupporre che il valore di mercato di YouTube potesse aggirarsi intorno al miliardo di dollari, tuttavia la stima si è rivelata sottodimensionata. Il 10 ottobre 2006, infatti, Google ha acquisito YouTube per 1,65 miliardi di dollari pagati in azioni proprie. A partire dall'aprile del 2006 YouTube ha iniziato un'imponente attività di cancellazione di video che violano i diritti di copyright, il cui numero si aggira intorno ai 100 mila, e di sospensione degli account che hanno caricato questi filmati. Dal 14 maggio 2007 il sito è disponibile anche in italiano. Descrizione. YouTube fa uso della tecnologia HTML5, Adobe Flash per i browser meno recenti, per riprodurre i suoi contenuti. Il suo scopo è quello di ospitare solamente video realizzati direttamente da chi li carica, ma spesso contiene materiale di terze parti caricato senza autorizzazione, come spettacoli televisivi e video musicali. Il rispetto del regolamento del sito, che vieta l'upload di materiale protetto da diritto d'autore se non se ne è titolari, si basa su una verifica ex post di quanto proposto dagli utenti. YouTube consente l'incorporazione dei propri video all'interno di altri siti web, e si occupa anche di generare il codice HTML necessario. YouTube è accessibile connettendosi al web con PC, con media internet tablet, MIT, e con dispositivi a 20 funzioni analoghe. È accessibile anche da telefono cellulare e smartphone. I video possono essere codificati con diversi codec. A partire dal 9 dicembre 2010, YouTube ha concesso a utenti che hanno caricato almeno un video e che non hanno infranto le norme della community, l'upload illimitato, riservato solitamente ai partner. A partire da novembre 2011, gli upload illimitati sono possibili anche fornendo un numero di cellulare valido, probabilmente per scoraggiare le infrazioni alle loro norme di community. Dal 9 agosto 2013 è stata introdotta una differente modalità di caricamento delle pagine. Questa, durante la riproduzione di un video, permette cliccando sul collegamento di un altro video e di caricarlo direttamente senza abbandonare la pagina, rendendo il passaggio più fluido ed esteticamente apprezzabile, grazie anche a una sottile barra rossa nella parte superiore della pagina. Politica. Un grande successo mediatico è stato ottenuto da YouTube in quanto il tradizionale dibattito tra i candidati alle primarie del Partito Democratico USA si è svolto in televisione in base a domande scelte tra quelle degli utenti di YouTube. In precedenza, RTV e YouTube si sono alleate per dare la possibilità agli utenti di porre alcune domande ai candidati premier Zapatero e Rahoi. Il video amatoriale dell'uccisione di Neda Agha Sultan inserito in YouTube, superando la censura di notizie imposta dal regime iraniano, nel maggio del 2009 ha avuto una larghissima diffusione con un forte impatto sull'opinione pubblica. Servizi collaterali. YouTube Kids. YouTube Kids è un'app secondaria per dispositivi mobili pensata per la fruizione dei video da parte dei bambini. Ha un'interfaccia utente semplificata, una selezione dei contenuti adattata per la loro fascia d'età e funzioni di controllo parentale. YouTube Music. YouTube Music è un servizio di streaming che si basa sui contenuti video musicali caricati sulla piattaforma di YouTube. Esso consente agli utenti di cercare ed ascoltare musica secondo generi, playlist e suggerimenti. YouTube Premium. YouTube Premium, precedentemente noto come YouTube Red, è il servizio in abbonamento per utenti premium che consente di fruire dei video caricati su YouTube senza inserzioni pubblicitarie, accedere a video e serie originali in esclusiva e riprodurre i video in modalità offline su dispositivi mobili. YouTube TV. Lanciata a febbraio del 2017, offre agli abbonati connessi da rete fissa e da rete mobile una web TV, che ritrasmette in diretta 40 emittenti statunitensi via etere e via cavo, reti sportive e canali a diffusione regionale. Aspetti controversi. YouTube e SIAE. Nel 2010, YouTube ha firmato il primo contratto con la SIAE, società che tutela i diritti d'autore degli artisti musicali ed editori. L'accordo attualmente in vigore tra SIAE e YouTube è stato concluso a giugno 2017 e a durata biennale. Con questo accordo, YouTube regolarizza la sua posizione con la società italiana autori ed editori per quanto riguarda i diritti di riproduzione e pubblica esecuzione. Per poter eseguire brani tutelati da diretto d'autore su un qualsiasi canale di distribuzione, e quindi anche online, è infatti necessario sottoscrivere un accordo con la società autori ed editori. Si tratta di un accordo che ogni sito italiano che trasmette musica tutelata sul web dovrebbe sottoscrivere con la SIAE, Ufficio Multimedialità, e che prevede importi calcolati sulla base di numero di pagine viste mese e di utenti, nonché sulla tipologia di sito, portale, sito corporate, privato. In particolare, l'accordo tra SIAE e YouTube è multiterritoriale cioè riguarda l'utilizzo del repertorio SIAE diretto in tutti i paesi dello spazio economico europeo nonché in alcuni paesi del Medio Oriente. È bene sottolineare che questo accordo riguarda solo la possibilità di trasmettere contenuti tutelati. Mentre non include i diritti connessi dei produttori discografici, nonché i diritti di sincronizzazione o abbinamento delle musiche alle immagini. Infatti per abbinare una qualsiasi traccia musicale ad un qualsiasi video è necessario richiedere l'autorizzazione direttamente agli autori e ai produttori, che potrebbero non essere d'accordo con tale abbinamento o comunque valutarlo sulla base di un compenso da definirsi di volta in volta con l'utente che intende farne uso. È sempre necessario ottenere un'autorizzazione e questo sia in presenza di un utilizzo commerciale diretto, ad esempio musiche utilizzate per sonorizzare un canale commerciale su YouTube, video virali postati con finalità evidentemente promozionali, corporate video, tutorial di programmi, ma anche a scopo non commerciale o magari apparentemente non tale, si citì ad esempio un video realizzato a fine umanitari ma sponsorizzato da una multinazionale, che ottiene quindi in diretto profitto in termini di immagine e pubblicità e che produce il contenuto con un budget di tutto rispetto. In sostanza, pur in presenza dell'accordo sia in YouTube, non è comunque consentito sonorizzare liberamente un video e postarlo con una traccia musicale per la quale non sia stata concessa una specifica liberatoria di utilizzo dagli eventi diritto per l'abbinamento al video stesso, diritti di sincronizzazione. Come si può leggere nei vari disclaimer sul sito YouTube però consiglia di controllare attivamente i video, perché le condizioni del trattamento della canzone, sottofondo, musicale, potrebbero cambiare. Questo passaggio è riferibile proprio a quanto illustrato e testimonia come l'accordo sia in YouTube non consenta all'utente di utilizzare liberamente qualsiasi brano per sonorizzare i propri video postati. Lo stesso vale per la situazione inversa, ovvero per i produttori musicali, musicisti, editori, discografici, che intendono postare video di terzi sonorizzati con le proprie musiche allo scopo di promuoverle. Così come chi realizza il video dovrà sempre richiedere e ottenere l'approvazione finale degli eventi diritto della musica prima di abbinarla alle immagini. Chi intenda abbinare un video alla propria musica dovrà provvedere a fare lo stesso nei confronti degli eventi diritto dei contenuti video. Violazioni di copyright Per identificare le violazioni di copyright, in una prima fase il proprietario dei contenuti fornisce elementi al database interno di YouTube che rendano univocamente identificabile il materiale sottoposto e definisce una procedura di utilizzo alla quale YouTube dovrà tenersi qualora riscontri una coincidenza tra i contenuti originali, traccia audio e, o, video, e quello sottoposto dagli utenti. Ogni volta che un video viene caricato su YouTube, esso viene confrontato con ogni altro elemento del database. Il sistema di confronto non opera soltanto sul file completo ma su ogni suo singolo istante. Questo significa che è possibile identificare le coincidenze anche se la copia in questione è solo una porzione del file originale, se viene riprodotta a rallentatore e ultimamente al contrario, o audio e video di scarsa qualità. Tale sistema di confronto valia video per una durata equivalente a circa 100 anni ogni giorno, tra nuovi caricamenti e controllo degli archivi. Il detentore dei diritti, invece di proibire il caricamento dei propri contenuti da parte degli utenti, ha l'opzione di permettere che la copia venga pubblicata traendone beneficio sia inserendovi dei link commerciali, monetizzazione tracciamento, sia in popolarità del brand. In alcuni casi il proprietario dei contenuti concede la compartecipazione delle entrate con l'utente che carica un video con contenuto non originale, ad esempio cover di brani musicali famosi, monetizzazione parziale tracciamento. La vicenda di Chris Brown. Nel 2008 uscì il video del singolo Forever dell'artista Chris Brown, un fan lo vide in tv, lo registrò con la videocamera del suo telefono e lo caricò su YouTube. Siccome Sony Music aveva registrato il video di Chris Brown nel sistema contented di YouTube, entro pochi secondi dal tentativo di caricare il video, la copia è stata identificata, dando la scelta su cosa fare a Sony, che fece eliminare il contenuto. Tuttavia, nel 2010 una giovane coppia si è sposata utilizzando questa canzone per un ingresso in chiesa. Il loro filmino di matrimonio è stato caricato su YouTube, ottenendo 40 milioni di visite. Sony, invece di bloccarlo, ha consentito il caricamento. Vi ha inserito della pubblicità e l'ha linkato ad iTunes. Così la canzone, che aveva ormai 18 mesi, è tornata in cima alle classifiche di iTunes. Jill e Kevin, la coppia protagonista, sono tornati dalla luna di mele e hanno scoperto che il loro video era diventato popolare. Sono finiti i numerosi talk show e l'hanno sfruttato come una grande opportunità. Il video ha generato 26 mila dollari in donazioni per porre fine alla violenza domestica e il video entrata in chiesa di JK è diventato così popolare che la NBC ne ha fatto una parodia nella puntata finale di The Office. Non è raro che un singolo video abbia più di un detentore di diritti. Il sistema contented di YouTube prende in considerazione tutti questi casi ma funziona solo tramite la partecipazione dei detentori dei diritti. Se ci sono contenuti che altri caricano su YouTube, dovrebbero registrarli nel sistema contented e poi avranno la scelta su come verranno utilizzati. Bloccando semplicemente il riutilizzo, si perdono tutte le nuove forme d'arte, nuovi utenti, nuovi canali distributivi e nuove fonti di profitto. Stando alle regole imposte da YouTube, nessun utente può caricare contenuti protetti dal copyright statunitense, ma nonostante questo, ancora molti video continuano ad essere caricati, come show televisivi, video musicali o concerti live. Inizialmente, a meno che non fosse il titolare del diritto d'autore stesso a notificare una violazione del copyright, YouTube ne veniva informata solo tramite segnalazioni inviate da utenti. Questo sistema, utilizzabile anche in caso di contenuto dubbio o che urta la sensibilità dei visitatori, è stato utilizzato talvolta anche in maniera non appropriata, provocando delle guerre virtuali fatte di segnalazioni e contro segnalazioni di video altrui puramente per cattiveria o per ripicche personali. È stato pertanto deciso di cancellare tale opzione. Il metodo principale attualmente utilizzato da YouTube per rilevare violazioni in materia di copyright consiste nel sistema di ricerca che gli utenti associano al clip. È per questo che gli utenti, nel tentativo di aggirare il controllo, utilizzano termini alternativi quando caricano certi tipi di file. Hollywood rimane divisa su YouTube, così come i ragazzi commerciali amano YouTube e i ragazzi legali lo odiano. I proprietari del contenuto non solo mirano all'utilizzo di YouTube per infrangere il copyright, ma mirano anche, tramite collegamenti a siti esterni, ad infrangere i contenuti di YouTube e di altri siti di condivisione video. Ne sono un esempio i casi Quicksilver Scream vs Fox, Daily Episode vs Fox e Colombia vs Slash Film. L'obbligo dei collegamenti rimane una questione discussa, avendo sia pro che contro. La legge negli Stati Uniti è attualmente incline a ritenere responsabili dei contenuti illegali proprietari del sito. Essi tuttavia sono spesso protetti dalla legge di MCA, a condizione che cancellino i contenuti illeciti dopo la pubblicazione di una notifica di eliminazione. Comunque, una recente sentenza giudiziaria negli Stati Uniti ha considerato Google non responsabile per collegamenti che infrangono il diritto d'autore. Esempi di denunce di violazioni. Il 5 ottobre 2006, la Società Giapponese per i Diritti degli Autori, Compositori ed Editori, denunciò l'infrazione del proprio copyright relativo ai contenuti giapponesi su YouTube. Migliaia di video di molti artisti giapponesi, come Tokyo GN e di altri artisti J-pop, furono rimossi. Quando la CBS e la Universal Music Group firmarono l'accordo per inserire contenuti su YouTube, annunciarono anche un prossimo utilizzo di nuove tecnologie di aiuto all'identificazione ed eliminazione del materiale protetto da copyright. Il giornalista TV, Robert Tursporse la prima denuncia contro la società nell'estate 2006, con l'accusa di aver violato il copyright, ospitando una serie di famosi news clip senza alcuna autorizzazione. Il caso deve essere ancora discusso. Il 9 novembre 2006 Artilengi comunicò che il suo avvocato era in trattative con YouTube, dopo aver trovato per intero il suo DVD, It's the Whiskey Talking, disponibile gratis sul sito. Arti aggiunse che avrebbe richiesto un risarcimento, altrimenti avrebbe proceduto per le vie legali. Le società Viacom e BBC richiesero a YouTube di cancellare più di 200.000 video. Nel 2008 Viacom fece causa a YouTube e al suo proprietario Google, per più di un miliardo di dollari, presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il distretto sud di New York. La Viacom ha reclamato il possesso da parte di YouTube di oltre 150.000 dei loro video, distribuiti online senza la loro autorizzazione. Mediaset il 30 luglio 2008 citò YouTube presso il Tribunale di Roma, chiedendo un risarcimento di 500 milioni di euro per diffusione illecita di materiale audiovisivo coperto da diritto d'autore. Il 17 dicembre 2009, il Tribunale di Roma dispose la rimozione dai server YouTube di tutti i contenuti appartenenti a Mediaset illecitamente caricati, nello specifico, quelli del Grande Fratello, essendo questo il contenuto Mediaset più visualizzato. Nel 2011, l'aggiunti OS Organizzazioni Speciali, tentò di denunciare un utente italiano, Ecoleo, per la violazione del copyright del test di Rorschach, dato che il suddetto utente aveva realizzato un video. Non si conosce bene lo scopo, usando le tavole d'esame ufficiali, precisando che, se il video non fosse stato eliminato entro tre giorni, si sarebbe ricorso al parere di Hansuber Verlag, proprietario internazionale del copyright, per passare uno alle vie legali. Il proprietario del video ha poi eliminato quest'ultimo. Il Feruse, nelle stesse linee guida dettate da YouTube, dopo aver elencato i casi in cui si è di fronte ad una chiara violazione del copyright, indica che ci sono casi particolari dove può legittimamente invocarsi il Feruse, ma lascia la responsabilità della scelta al singolo utente. Ci sono ora le prime cause, ad esempio, una casalinga americana aveva messo su YouTube l'immagine del proprio figlio, accompagnata da una musica di sottofondo. Il titolare dei diritti su tale brano musicale ne ha chiesto la rimozione, YouTube ha poi deciso di riammettere il filmato e la questione è finita in tribunale. Identificazione vocale. Il 12 ottobre 2006, YouTube ha annunciato che a causa dei recenti accordi con i creatori di contenuti di alto profilo, sono stati costretti ad utilizzare software antipirateria. Il software utilizza una tecnologia di firma audio che può distinguere una copia di bassa qualità di un video musicale con licenza o altro materiale, da una versione originale ad alta qualità. YouTube in tal caso dovrebbe rimpiazzare il file con una versione approvata o eliminarlo automaticamente. Violenza. Il primo giugno del 2006, il notiziario serale della ITV News ha riportato che YouTube e altri siti affini incoraggiano la violenza e il bullismo tra i giovani, i quali filmano combattimenti con i loro cellulari, e in seguito li caricano su YouTube. Mentre il sito ha provveduto con una funzione per segnalare contenuti eccessivamente violenti, il reportage ha dichiarato che le comunicazioni con la società erano difficili. Censura. Afghanistan. Il 12 settembre 2012 YouTube venne vietato in Afghanistan a causa della pubblicazione di un film su Mahometto. Iran il 3 dicembre 2006, in Iran il Comitato per la propagazione della virtù e la prevenzione dal vizio ha affermato che i siti ebrei come YouTube, con i loro video provocanti e peccaminosi, sono il simbolo della decadenza del perverso occidente. Pertanto ha bloccato l'accesso a YouTube e ad altri siti nel tentativo di impedire la diffusione di musica e film stranieri ritenuti moralmente viziati. YouTube in Iran non è accessibile, a riprova di questo vi è il canale YouTube ufficiale dell'agenzia di stampa iraniana Farsenews Agency. Turchia. La Turchia ha bloccato YouTube il 6 marzo 2007 per aver pubblicato video offensivi verso i Turchi e Taterk, il fondatore della moderna Turchia, raffigurato nell'escalation di quella che molti chiamano guerra virtuale tra greci, armeni, kurdi e turchi su YouTube, dove persone di ogni fronte hanno inserito video con lo scopo di sminire e rimproverare l'altro. Il video che ha causato il blocco accusava i Turchi e i Taterk di essere gay. Il video è stato prima menzionato sulla CNN turca ed in seguito il procuratore pubblico di Istanbul ha fatto causa a YouTube per aver offeso la cultura turca. La Corte ha sospeso l'accesso al sito in attesa della rimozione del video. Il ban è stato fortemente criticato come censura della stampa dall'agente comune. I legali di YouTube hanno inviato una documentazione della rimozione del video al procuratore turco e l'accesso è stato riabilitato il 9 marzo 2007. L'accesso a YouTube è stato nuovamente bloccato da due successive sentenze relative ad altri video rispettivamente del 5 maggio 2008 e del 6 giugno 2008. Thailandia. Durante la settimana dell'8 marzo 2007, YouTube è stato bloccato in Thailandia. Molti blogger hanno ritenuto che le ragioni di tale impedimento sono state dovute al video dell'intervista del primo ministro Thaksin Shinevatra alla CNN. Peraltro, il governo non ha smentito o confermato le ragioni della censura. YouTube è comunque tornato accessibile dal 10 marzo. La notte del 3 aprile, il sito è stato nuovamente bloccato in Thailandia. Il governo ha citato un video dichiarandolo offensivo per il rebo Mibola Duliedi. Tuttavia, il ministero dell'informazione e della comunicazione tecnologica ha affermato che YouTube sarebbe tornato accessibile in pochi giorni, dopo che i siti contenenti riferimenti a tale video fossero stati rimossi. In seguito a questo incidente il blog tecnologico Masable è stato bloccato dalla Thailandia per aver riportato il video in questione. Brasile. YouTube è stato accusato dalla modella brasiliana e VJDMTV Daniela Cicarelli, meglio nota come ex fidanzata di Ronaldo, per aver mostrato sul proprio sito un video registrato da un paparazzo, nel quale lei e il suo fidanzato, Renato Malzon, avevano un rapporto sessuale su una spiaggia spagnola. L'accusa ha richiesto l'inaccessibilità di YouTube in Brasile finché ogni copia del video fosse stata rimossa. Sabato 6 gennaio 2007, un'ingiunzione legale ha ordinato l'inserimento di una serie di filtri, con lo scopo di impedire l'accesso agli utenti brasiliani. Birmania. Nell'agosto 2007 la giunta militare birmana ha chiuso l'accesso a YouTube per fermare i filmati di denuncia dei massacri dei dimostranti, in gran parte monaci, che chiedevano una maggiore libertà. Cina nel marzo 2008 YouTube è stato bloccato in Cina per aver ospitato nella propria piattaforma e reso visibile un video dove vi erano filmate le violenze e disordini scoppiati in Tibet in quei giorni. Termini di servizio. In accordo con i termini di servizio del sito, gli utenti possono caricare video solo se hanno il permesso della proprietà dei diritti d'autore e delle persone raffigurate. Pornografia, diffamazione, molestie, pubblicità e materiale che incoraggia condotte criminali non possono essere caricati sul sito. Gli utenti che inviano materiale concedono a YouTube la licenza di distribuire e modificare il materiale caricato per ogni scopo, detta licenza termine quando l'utente cancella il materiale dal sito. Gli utenti possono vedere il video ma non possono scaricarlo. Per vedere il video, non è necessaria la registrazione. Profitti e costi di gestione. Prima di essere stata acquistata da Google, YouTube ha dichiarato che il suo modello di affari si basa sulla pubblicità. Alcuni esperti industriali hanno speculato che i costi di YouTube, in particolare la larghezza di banda richiesta, potrebbero ammontare a più di un milione di dollari al giorno, pertanto hanno alimentato critiche su come la società, come tante altre in avviamento su Internet, non ha attuato un proficuo modello di affari. Le pubblicità sono state lanciate sul sito dall'inizio di marzo 2006. In aprile, YouTube ha iniziato a usare Google AdSense, servizio terminato successivamente. Dati i suoi altissimi livelli di traffico, il flusso di dati video e il numero di pagine viste, alcuni hanno calcolato che i potenziali guadagni di YouTube potrebbero aggirarsi intorno al milione di dollari al mese. Si stima che nel 2009 il sito sia costato quasi 700 milioni di dollari, di questi almeno 300 dedicati al pagamento delle connessioni Internet. Si stima che nel 2009 il sito abbia generato il 42% dei traffico online che è transitato su Internet e che fatturerà circa 240 milioni di dollari, quindi una cifra insufficiente a coprire i costi del sito. Dall'autunno 2011 YouTube inserisce degli spot pubblicitari prima di permettere la visione di alcuni video. Il nome del dominio. La scelta del nome del dominio www.youtube.com si rivelò fonte di problemi per un sito con un nome simile, www.youtube.com. L'azienda proprietaria del sito, la Universal Tube Endroll Form Equipment, citò in giudizio YouTube nel novembre 2006 in seguito a frequenti sovraccarichi dovuti a utenti che cercavano YouTube. La Universal Tube ha successivamente modificato il nome del proprio sito web in www.youtubeonline.com. Note tecniche. Formato video. Dal 2009, la tecnologia video del sito si basa su HTML5 per VideoMP4 con codec H264. In precedenza utilizzava Flash Player 7 di Micromedia con codec Video Sorenson Spark H.263, che permetteva a YouTube di mostrare video con una qualità comparabile a quella di molti altri player affermati, come Windows Media Player, Real Player o il QuickTime Player della Apple, ma richiedeva all'utente il download e l'installazione di un plugin per il browser e raggiuntivo per visionare il video, Adobe Flash o Nash. YouTube ufficialmente accetta video nei formati WMV, AVI, QTFF, OG della famiglia MP e G3GP, MP e G-1, MP4 e M4V. Da marzo 2008 YouTube permette di visualizzare alcuni video in alta qualità. Ciò è possibile cliccando sotto Visualizzazioni sotto al video, in seguito i comandi del player sono stati modificati. Anche i video che non dispongono di questa funzionalità possono essere visualizzati in alta qualità aggiungendo alla fine dell'indirizzo del video and of mt uguale 18. A novembre 2008 è stata aggiunta anche la possibilità di visualizzare i video in alta definizione, 720p, ancora migliore rispetto all'alta qualità. Se la funzione è presente, basta cliccare sul pulsante H di presente nella barra del player, oppure aggiungere alla fine dell'indirizzo del video and of mt uguale 22. In seguito, nel novembre del 2009, la funzionalità HD è stata migliorata passando dalla risoluzione 1280x720, meglio conosciuta come 720p, a quella full HD 1920x1080, conosciuta come 1080p, analoga a quella offerta da un Blu-ray disc compatibile con le videocamere e gli schermi HD. In ogni caso un video caricato in alta definizione risulta sempre riproducibile anche nelle definizioni inferiori. Nel luglio 2010 è stato implementato anche il supporto ai video con risoluzione 4K, 4096x3072 pixel. Dal luglio 2009 è possibile la riproduzione di contenuti stereoscopici, 3D, sia con l'anaglifo, vecchie lenti bicolori, sia con i nuovi metodi per la riproduzione, monitor 3D con trasmettitore e reocchialini attivi. Accessibilità dei contenuti. Gli utenti possono inviare i video in molti formati comuni, come Mpeg e AVI. YouTube li converte automaticamente nei formati supportati e li rende visionabili online. Ogni video è accompagnato dal markup HTML per collegarsi e rimandare ad esso e, o, inserirlo in un'altra pagina. Alcune piccole aggiunte al markup permettono al video di partire automaticamente all'apertura della pagina. Queste semplici opzioni taglia e incolla sono molto diffuse tra gli utenti del social web. YouTube Video Editor. Il 18 giugno 2007 YouTube ha lanciato il proprio programma di video editing online, chiamato YouTube Video Editor. Il programma permette agli utenti di modificare i propri video direttamente online. Esso si presenta come un'altra estensione dei servizi resi possibili grazie al web 2,0. È rimasto attivo fino al 20 settembre 2017. Riconoscimenti. Nel 2006 YouTube ha annunciato il suo YouTube Video Awards, premi dati come riconoscimento formale ai migliori video di YouTube dell'anno precedente, votati dalla comunità di YouTube. Si tratta di video riprodotti talmente tante volte da essere considerati casi degni di interesse per la comunità di Internet, e a volte i personaggi anonimi che hanno messo in rete il loro video diventano vere e proprie icone sociali, ripresi o citati da altri media, dai videoclip a South Park. Prima del 2007 era un contatore ad occuparsi di selezionare i video più visti, ora gli utenti di YouTube hanno un ruolo attivo nella scelta. I vincitori ricevono un trofeo, al fine di essere nominati, gli utenti dovevano aver creato un proprio video originale. Le categorie sono, Most Creative, Best Comedy, Best Commentary, Best Series, Best Music Video, Most Inspirational, Most Adorable. Nella prima edizione le categorie erano solo 7. Per ogni categoria vengono candidati 10 video, tra i quali verrà scelto il vincitore. I video nominati da votare sono scelti dal personale di YouTube, mentre i vincitori sono selezionati dagli stessi utenti di YouTube, i quali nel 2008 hanno avuto diritto al voto una volta al giorno, ma una volta effettuata la scelta non hanno avuto la possibilità di cambiarla. Al fine di essere nominati, gli utenti dovevano aver creato un proprio video originale. Attenzione dei media. Grazie soprattutto al passaparola online, YouTube è cresciuto rapidamente, fin dalla sua creazione, e ha dato al sito il suo primo aumento di notorietà quando ospitò il popolare Saturday Night Live. Tuttavia, la linea di condotta di YouTube proibisce la pubblicazione di materiali protetti da diritto d'autore Enbeck Universa, proprietaria di SNL, decise presto di intraprendere azioni contro YouTube. Nel febbraio 2006, Enbeck chiese la rimozione di alcuni dei suoi contenuti protetti dal diritto d'autore da YouTube, compresa le Isisande e le immagini delle Olimpiadi Invernali del 2006. Il mese seguente, in un tentativo di rinforzare la sua politica contro le infrazioni al copyright, YouTube mise un limite massimo di tempo ai video, pari a 10 minuti, più precisamente 10 minuti e 58 secondi, ad eccezione per i contenuti spediti attraverso il suo programma nel quale si può specificare che si tratta di video amatoriali. Questa restrizione è spesso superata da chi inserisce video dividendo il video originale in segmenti più piccoli o al massimo uguali al limite. Anche se YouTube aveva fatto la sua parte per venire incontro alle richieste di NBC, l'incidente diventò una notizia pubblica, rendendo YouTube più popolare che mai. Mentre il sito continuava a crescere, NBC iniziò a capire le possibilità e nel giugno del 2006 fece una mossa insolita, il network riconsiderò il proprio operato e annunciò un'alleanza strategica con YouTube. Come parte dell'alleanza, fu aperto un canale ufficiale della NBC su YouTube, ospitante filmati promozionali della serie TV The Office. YouTube, inoltre, avrebbe promosso i video della NBC nel proprio sito. La CBS, che in precedenza aveva chiesto a YouTube di rimuovere alcuni dei suoi filmati, si fece risentire nel luglio 2006. In un documento indicativo di come stava cambiando la percezione di YouTube, e di siti simili, da parte dell'industria tradizionale dei media, Sean McManus, nell'agosto 2006, YouTube ha annunciato che, entro i successivi 18 mesi, si augurava di offrire ogni video musicale mai creato. Warner Music Group e Demi hanno confermato di essere tra le compagnie intrattative per rendere effettivo questo progetto. In settembre, Warner Music e YouTube hanno siglato un patto, nel quale YouTube sarebbe stata abilitata a ospitare ogni video musicale prodotto dalla Warner, mentre avrebbe condiviso una parte dei ricavi pubblicitari. Inoltre, i video creati dagli utenti di YouTube sarebbero stati autorizzati a usare canzoni della Warner nelle loro colonne sonore. Il 9 ottobre, la CBS, insieme alla Universal Music Group e alla Sony BMG i Music Entertainment hanno pattuito di fornire contenuti su YouTube. Il 29 gennaio 2007, il cofondatore di YouTube, Chad O'Hurley, ha annunciato che il sito avrebbe pagato gli utenti più importanti, che sarebbero potuti anche diventare proprietari dei diritti d'autore e guadagnare una parte dei ricavi pubblicitari. Ad ogni modo, al Forum Economico Mondiale, Mr. Erle non ha dichiarato la somma concreta che YouTube avrebbe pagato ai propri contribuenti. Promozioni musicali e per le band YouTube è anche diventato un metodo per promuovere le band e la loro musica. Uno dei tanti esempi sono stati gli OK Go, i quali hanno avuto alti ascolti in radio e un MTV Video Music Award per la loro performance sui tapis roulant nel video Here It Goes Again. Allo stesso modo, il video viral di Samuel Ferrari con la canzone YouTube School, 100.000 visite in poche settimane, o la campagna degli abbracci gratis, accompagnato da una musica dei Sick Puppies, ha portato notorietà sia alla band che alla campagna, oltre che l'emulazione dell'iniziativa in altre parti del mondo. Il protagonista del video Quan Man ha ottenuto tale fama, grazie anche all'intervista pubblicata per un programma di news australiano, in seguito è apparso su The Oprah Winfrey Show. Guadagni per i creatori di contenuti. Gli utenti che producono e pubblicano video sono indicati col neologismo YouTuber. Questo status esclusivo, in precedenza offerto solo a provider commerciali, ha permesso agli utenti di trarre guadagni dalle inserzioni pubblicitarie. I primi YouTuber professionisti, ovvero che si dedicano regolarmente alla creazione di contenuti in modo da incrementare visualizzazioni e iscrizioni al canale, sono apparsi negli Stati Uniti in seguito a tali accordi con il sito web, la pratica si è successivamente diffusa in tutto il mondo. La popolarità degli YouTuber è ormai altissima tanto da essere paragonati ad attori o cantanti, molti di loro vengono spesso ingaggiati da aziende per pubblicizzare i loro prodotti, come il recente caso della Fanta, ma anche tour per autografi e merchandising, in Italia l'esempio più eclatante è la Illuminaticrium, gruppo di YouTuber italiani nato nel 2015 e che ha iniziato una collaborazione con l'azienda di scarpe due stars per un modello speciale firmato con logo del gruppo. Per questo è stato organizzato un tour per negozi d'abbigliamento in tutta Italia, un evento a Rimini è stato annullato per via dell'incredibile folla che ha costretto i gestori del negozio a chiamare le autorità. Negli ultimi anni YouTube ha reso disponibile il programma partner di YouTube ad una platea di creatori di contenuti sempre maggiore. Dal 18 aprile 2017 tutti gli utenti che caricano video in osservanza delle norme della community e quelle degli inserzionisti, sono teoricamente idonei a monetizzare i loro contenuti, indifferentemente dal numero di iscritti e con un numero di visualizzazioni complessivo per il canale superiore a 10.000. Il 16 gennaio 2018 sono state aggiunte delle restrizioni, come la necessità di avere almeno 4.000 ore di visualizzazioni del canale negli ultimi 12 mesi e 1.000 iscritti. Le assemblee di YouTube. Gli YouTuber organizzano periodicamente incontri per celebrare la comunità della condivisione video. Uno dei primi di questi incontri, l'annuale e internazionale S1, si è tenuto per la prima volta nel gennaio 2007 ad Hollywood in California. Il secondo S1, tenutosi il 17 febbraio 2007 nel centro commerciale Pierre 39 di San Francisco, ha organizzato la riunione di molti degli utenti più in vista del sito. Onorificenze. YouTube ha inoltre premiato video con delle onorificenze, la più popolare riguarda il più votato e il più visto del giorno, della settimana, del mese, e di sempre. Classifiche. Video con più visualizzazioni. Il video con più mi piace ed espacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee, con oltre 34 milioni di pollici in su. Al contrario, il video con più non mi piace è YouTube Rewind 2018, Everyone Controls Rewind, che conta oltre 16 milioni di pollici in giù. Il videoclip del singolo Boy With Love dei BTS featuring Olesi detiene il record di maggior numero di visualizzazioni in un singolo giorno, 74,6 milioni di visualizzazioni il 13 aprile 2019. Il video che ha impiegato il minor tempo a raggiungere il miliardo di visualizzazioni è Elodie Adele, con 87 giorni. La seconda posizione è occupata da Despacito con 96 giorni, mentre la terza da Shape of You di Ed Sheeran con 97 giorni. Il 21 dicembre 2012 Gennam Style di Psy è il primo video a raggiungere un miliardo di visualizzazioni. Per questa occasione, a fianco al numero di visualizzazioni, YouTube ha inserito un fdanzante del cantante sudcoreano. Il 30 maggio 2014 il video di Psy ha raggiunto i 2 miliardi di visualizzazioni, e l'ADV, questa volta raddoppiata, è comparsa nuovamente a fianco. Il primo dicembre 2014 sempre lo stesso video raggiunge il più alto numero intero 32 bit, 2 miliardi 147 milioni 483 mila 647, utilizzato dal contatore delle visualizzazioni di YouTube, costringendo il team di sviluppo ad effettuare un upgrade, implementando il contatore a 64 bit, 9 trilioni 223 biliardi 372 bilioni 36 miliardi 854 milioni 775 mila 808. Il 4 agosto 2017, il 12 ottobre 2017, il 5 aprile 2018 e il 24 febbraio 2019 Despacito diventa il primo video a raggiungere 3, 4, 5 e 6 miliardi di visualizzazioni. Canali con più iscritti. Influenze su altri siti. Col successo di YouTube, molti altri siti di condivisione video hanno cercato di emularne il modello, alcuni contengono anche il familiare Tube alla fine o all'interno del nome. Inoltre, centinaia di siti web hanno creato filtri e mostrano contenuti da YouTube nel tentativo di evitare le pubblicità. YouTube, chiaramente di diritto statunitense, ha il vantaggio dell'applicazione del Feruse che non hanno i siti europei. YouTube. Il 3 marzo 2006 l'Unione Europea ha lanciato attraverso YouTube il progetto Ancu YouTube, curato dalla Commissione Europea e teso a rendere disponibili al pubblico i propri materiali audiovisivi. Lo scopo principale del progetto è quello di informare i cittadini sulle attività dei paesi aderenti all'UE. I video disponibili sono in lingua inglese, in lingua francese e in lingua tedesca anche se è in programma un'estensione della gamma linguistica. Una particolare attenzione è rivolta al materiale di repertorio riguardante la storia dell'Unione Europea, dalla sua fondazione ai tempi attuali. Linbeck. YouTube Linbeck è un servizio attivo dal 2012 che permette di visualizzare video ed altri contenuti presenti sul sito, direttamente in televisione. Canali ufficiali. Non sono solo le persone comuni a creare canali su YouTube, ma anche aziende e persone famose che, caricando video di cui detengono il copyright, aumentano la propria popolarità. I canali ufficiali di YouTube vengono detti partner. Pesci d'aprile. Dal 2008, fino al 2016 YouTube ha organizzato diversi pesci d'aprile. Attacchi informatici. Il 4 luglio 2010 YouTube è stato preso di mira da cracker che hanno sfruttato una falla del sistema per rinviare ad altri video, o talvolta a siti pornografici, gli utenti che accedessero ai video di Justin Bieber. Questo audio usa il materiale della pagina Wikipedia YouTube il cui indirizzo è it.wikipedia.org slash wiki slash YouTube che è rilasciato sotto la licenza Creative Commons, Attribution Shareoike 3,0 Unported, CC by SA 3,0. Vedi informazioni all'indirizzo creativecommons.org slash licences slash by SA slash 3,0. isty%сп… …. …. …. …. Grazie.